Martín Castelgiovanni oggi qui all'Università di Sudisaleno, il mondo dello sport, abbraccia l'UNISA. Ecco, cosa vogliamo lasciare a questi ragazzi? Che testimonianza oggi vuole portare Martín Castelgiovanni qui da noi? Quello che penso sempre, ma non solo all'Università, in tutti gli ambiti della vita. Ognuno di noi deve seguire i suoi sogni, deve lasciare tutto per quello che ama, per quella passione che ha, che se uno lo vuole fare ce la può fare. Basta avere costanza, testa dura e andare sempre avanti, che sai, si può cadere ma si rialza sempre. Quello che abbiamo cercato, penso di dirle oggi ai ragazzi, di seguire i sogni, la vita non è facile, è molto dura, ma è quello il velo della vita. Qui abbiamo tanti impianti sportivi Martín, ecco, cosa ti è piaciuto questo campus, cosa ti ha lasciato? Beh, penso che sia una struttura incredibile, è la prima volta che sono qui, ma non solo per la parte sportiva, penso che anche per quella parte più importante che sia quella dell'Università, è una cosa incredibile, sembra una città, se devo essere sincero, veramente sono rimasto impressionato di quanto grande e quanto bella è. Montedoro, ospite dell'Università di Sudisaleno, Unisorienta, questo grande evento, cosa vogliamo lasciare a questi ragazzi? Tanta speranza, tanti sogni e di non mollare mai, tanto è vero che c'è come testimonio il mio grande amico Martín, che è uno che ha incontrato i colossi del mondo, i problemi del mondo, e questo è il nostro messaggio, insomma, di inseguire, di avere perseveranza, perché so che non è facile per tutti, però se veramente uno, scusate la voce, vengo da Torre Teatrale, se uno crede veramente in se stesso, può ottenere, può riuscire, basta che le cose siano fatte con gioia e con voglia e serenità, perché capisco che è molto difficile, non è più, cioè io ho 44 anni, quindi mi ricordo che era un po' tutto diverso, era un po' tutto più calmo, c'è anche, diciamo, un martellamento mediatico, che comunque ti influenza molto, quindi è ancora più difficile andare avanti per la propria strada, perché hai mille tentazioni, cioè magari non insegui più il tuo sogno per una cosa un po' più facile, per soldi facili o per una via un po' più, che sembra meno tortuosa e più efficace, però non è così poi, perché poi quando uno insegue i propri sogni e riesce a realizzarli, secondo me è l'uomo più felice del mondo.